ciao stai ascoltando the thanks book club il podcast del gruppo di lettura di gabriella giliberti e letture metropolitane io sono giovanni villani e mi occupo della post produzione visto che esistono già troppi podcast dove parlano solo maschi non vedo l'ora di ascoltare questa puntata prima di iniziare ti invito a seguire questo podcast in modo da non perdere i prossimi appuntamenti puoi trovarci anche sui social e unirti al gruppo di lettura cercando the thanks book club su telegram puntata 6 rosemary's baby ciao a tutti a tutte e a tutto e questo è il the thanks book club il podcast siamo tornate siamo ancora vive incredibile ma vero a volte ritornano facendo delle grandi citazioni orrorifiche ovviamente chi siamo io sono flavia capone di letture metropolitane io invece sono gabriella giliberti come sempre il the thanks è il gruppo di lettura in cui approfondiamo rileggiamo e ci godiamo dei romanzi che appartengono al mondo dell'horror del gotico e dopo un certo tempo quindi dopo aver approfondito bene molto bene la lettura oggi parliamo di rosemary's baby un capolavoro veramente assolutamente io sono completamente d'accordo con te uno perché poi io rosemary's baby l'ho conosciuto in realtà anni decenni fa direttamente con il meraviglioso film poi di roman polanski ma non solo tu io credo che questo sia uno delle poche occasioni in cui la gente scopre dopo che esiste un libro perché il film è diciamo sia un po fagocitato la fama del libro sì assolutamente considerando che il libro esce nel 1967 mentre appunto solo un anno dopo poi esce effettivamente il film di polanski che tra l'altro fagocita come giustamente dici tu il successo del libro stesso perché polanski si introduce all'interno di un panorama cinematografico horror con un film completamente diverso rispetto a tutto quello che si stava vedendo fino a quel momento perché tra la fine degli anni 50 all'inizio degli anni 60 c'è tutta la rinascita dei mostri perché c'è hammer di fisher che riporta dracula riporta frankenstein quindi nuovamente c'è la trasposizione del gotico in una chiave molto più violenta molto più sensuale molto più ferina però obiettivamente parliamo sempre di costruzioni molto artificiose no che riguardano il passato c'è questa atmosfera vittoriana che continua a dominare tantissimo all'interno della rappresentazione cinematografica se pensiamo anche ai meravigliosi film del gotico italiano degli anni 60 tutti i film di bava di margheriti di frega per esempio ovviamente sono sempre ammantati da queste atmosfere molto antiche molto da romanzo gotico quindi quando arriva poi rosemary's baby che viene non solo ambientato ai nostri giorni ma soprattutto con due protagonisti normalissimi che si trovano all'interno di una situazione molto particolare dove ovviamente il maligno il diavolo in questo caso diventa la metafora totale della probabilità insita non a caso poi poco dopo uscirà un altro film tratto da un romanzo che si conosce più il film che il romanzo che è l'esorcista certo un romanzo che tra l'altro era nelle nostre nel nostro elenco chissà che poi dopo non venga fuori anche questa come lettura rosemary's baby è praticamente un horror borghese alto borghese perché i protagonisti non solo la coppia protagonista ma anche i personaggi che abitano il grattacielo questa casa diciamo che è un po una una delle case no della letteratura horror che secondo me diventano iconiche sono comunque persone di una alta borghesia questa è una casa anzi sottolinea all'inizio air 11 che bisognava essere in lista per per diciamo scoprire se si liberavano degli appartamenti in questo grattacielo quindi era molto ambito nonostante la sua fama già un pochino sinistra questi due personaggi questa coppia rosemary e guy hood house vanno ad abitare in maniera anche un po sorprendente perché un appartamento si libera loro avevano già praticamente firmato un contratto di un altro appartamento da un'altra parte e invece questo però era un po la loro casa dei sogni e quindi soprattutto rosemary proprio contentissima di avere questa opportunità si trasferisce insieme appunto a guy in questo appartamento siamo a new york quindi insomma nulla di più moderno nulla di più metropolitano di new york gli anni 60 infatti nel nel film poi tutto questo mondo anche esteticamente molto connotato io i vestitini di mia farlo penso che siano veramente iconici triangolari anche il diciamo lo stile pregnant con le conne corte molto molto tipico diciamo diventa un po una una forma estetica decisamente diversa da quella che appunto era l'abitudine horror del del periodo e poi c'è tutto un discorso legato alla maternità la cosa veramente già da come no lo stai raccontando tu la cosa che è abbastanza estraneante tanto nel romanzo poi quanto nel film e questo iniziale stile quasi da commedia no se uno ci pensa giustamente no la stessa mia farro che con questo visino così dolce il taglio sbarazzino e l'interesse che poi effettivamente a rosemary che lo vediamo anche all'interno del romanzo nei confronti dei dei vestiti c'è questa cosa da commedia no questa atmosfera da commedia romantica che effettivamente nel momento in cui tu ti approccia la lettura è un po strano no ti stona va completamente a contrasto rispetto a quello che poi è il tema e sono gli avvenimenti all'interno del libro ma la cosa che a me piace moltissimo poi effettivamente del romanzo e che in fondo questo stile comedy per così dire non viene mai del tutto abbandonato piuttosto a un certo punto viene esasperato e si comincia a subentrare all'interno di quella che è un'atmosfera più perturbante si comincia a utilizzare molto di più il grottesco fino ad arrivare ovviamente ad un finale molto più macabro no dalle tinte estremamente più macabre poi rosemary's baby più che horror è quello che noi potremmo definire un romanzo così come un film di suspense in realtà perché è la tensione quella che viene portata avanti anche con un ritmo abbastanza particolare perché diciamolo secondo me all'inizio la lettura potrebbe anche sembrare leggermente ostica non è uno di quei libri che parte con ok devo leggere tutto lo devo divorare e devo fare le quattro del mattino fino a quando non arrivo al capitolo successivo no a una partenza piuttosto lenta secondo me dettata anche da quello che è uno stile di scrittura non dico artificioso per carità però effettivamente è molto carico ecco ma io devo dire questa cosa me ne sono resa conto fino a un certo punto forse perché avendo visto il film tra l'altro poco rivisto poco prima della lettura del libro avevo ancora diciamo abbastanza fresco tutto quanto ero molto diciamo eccitata di leggere no la versione la versione scritta sicuramente quello che è secondo me molto interessante la scrittura di questo libro è l'approccio il punto di vista quello della protagonista no il fatto che noi scopriamo e viviamo con lei questa suspense dell'avere dei piccoli segnali che c'è qualcosa che non va piano piano molto lentamente però appunto con un un ritmo crescente che per un lettore una lettrice è forse la cosa sicuramente la cosa più coinvolgente anche a prescindere dai particolari macabri cioè è più questo senso di chiusura di qualcosa che piano piano avvolge la protagonista per imprigionarla lei parte da una situazione di libertà libertà di scelta è anche una che diciamo scappata da una situazione familiare che un po la anzi sicuramente la opprimeva no una famiglia molto molto cattolica molto credente il loro e lei si sente molto chiusa no in questa famiglia e vive la sua vita invece come donna libera no di una coppia che che appunto può scegliere tutto è vero che le scelte sono sempre tipo che cosa appendere alle pareti e poco altro perché dal punto di vista lavorativo tutto è concentrato sulla carriera del marito e questo è già un segno no di quello di cui forse parleremo dopo esatto che però è proprio attraverso il quotidiano no la cosa particolare ovviamente l'abilità più grande di ralevin è quello di riuscire a costruire un'atmosfera gotica opprimente minacciosa attraverso quello che l'uso quotidiano del dettaglio che sempre molto realistico no dandoci proprio questa ci introduce piano piano a quella che a quello che il sovrannaturale che inizia a penetrare all'interno della quotidianità di di questa coppia in modo particolare ovviamente di di rosemary rendendo il tutto secondo me ancora più disturbante perché sono è quell'anomalia quella piccola crepa no che il primo giorno te ne accorgi su un muro bianco perfetto il primo giorno è bianco perfetto il secondo giorno c'è una piccola crepa nata dal nulla che dici vabbè che sarà mai passa qualche giorno e ti rendi conto che però la crepa è diventata un po più grande senza che nessuno abbia però effettivamente toccato quella crepa diventa addirittura un buco ed è una cosa strana no è molto molto strana rispetto no alla alla tua alla tua normalità anche perché queste piccole crepe si inseriscono su un substrato che è quello di rosemary che è vero che proviene da una famiglia una famiglia credente no profondamente credente però è un substrato invece di persona che cerca la razionalità che cerca l'essere diciamo scientifici no da un certo punto di vista cerca di essere anche un po aiutata dalla dalla logica cerca di vedere tutto attraverso la logica per cui quello che le succede all'inizio non non attecchisce proprio perché lei non rifiuta no tutto ciò che non è quando poi inizia ad arrivare il problema la virgolette bambino il problema gravidanza lì ci sono un po di cose che secondo me sono interessanti che riguardano proprio il il contrasto fra la medicina e le credenze il fatto che lei scelga un medico e poi gliene venga diciamo appioppato in maniera abbastanza diretta un altro e io ho trovato estremamente realistica la sensazione di sballottamento e di totale confusione in cui ci si trova una volta che si inizia una gravidanza cioè quel fatto in quel momento in cui tu sei un po in balia del mondo perché è una sensazione che non hai mai provato e soprattutto perché tutti sono convinti di saperne più di te e questa è proprio la sensazione soprattutto gli uomini però in generale tutti hanno qualcosa da dire un consiglio da dare una sicuramente è così sicuramente si fa così e questo fa parte della gabbia attenzione cioè della gabbia in cui starlo smeri cioè lei a un certo punto è ingabbiata anche dal giudizio degli altri sì è completamente manipolata poi anche da questo giudizio oltre a questo senso di frustrazione che le cresce in maniera assolutamente prepotente che contribuisce anche poi all'atmosfera una cosa interessante di rosemary's baby che non so poi quante persone effettivamente sanno che una delle diciamo così ispirazioni definiamola in questo modo nasce proprio dall'ambito gravidanza e medicina perché gli anni 60 sono stati caratterizzati da uno scandalo farmaceutico molto importante che era quello delle talidomide se non mi sbaglio se si pronuncia così dove era praticamente un farmaco che veniva consigliato alle donne in gravidanza perché aiutava nelle gravidanze la realtà che i danni che questo farmaco faceva al feto nei primi tre mesi erano devastanti bambini nati con malformazioni bambini nati senza arti con problemi a livello di organi tutti ovviamente imputati poi a quel tipo di farmaco e rosemary vive con questo terrore che a lei possa non capitare che possa non succedere che qualcuno le consigli un farmaco sbagliato lei è proprio l'incubo della gravidanza no come vivere la gravidanza nel modo peggiore possibile perché sei completamente avvolta effettivamente in questo senso dalla dalla paranoia come giustamente dicevi tu flavia poi a riceve tutta una serie di consigli da persone che ne sanno più di lei no le tisane che lei deve costantemente ingurgitare anche no se hanno un un sapore orribile e secondo me vai scusa no no vai vai finisci finisci no dicevo che in questo senso secondo me un un'importanza ce l'hanno soprattutto i personaggi di mini e roman certo no i cast vet che sembrano effettivamente i perfetti vicini no di casa così gentili con questi modi amichevoli proprio quelle persone che sanno come metterti a tuo agio ma che piano 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 diventano sempre più invadenti e proprio per questo diventano sempre più inquietanti perché in realtà fanno parte poi di questa setta terrificante ma diciamo che quella secondo me veramente io ci ho visto tanta metafora nel senso che poi penso che ne parleremo anche con la nostra ospite questo è sicuramente un libro in cui la componente demoniaca è importante in cui c'è il discorso del figlio diciamo del demonio e del del legame tra essere umano e demonio che ricalca il legame tra dio e l'uomo ovviamente perché poi c'è tutto no un discorso di anti anticristo appunto però quello che per me è più forte in realtà è proprio la componente metaforica sulla un po sul diciamo sui sui disagi sui sui problemi della borghesia i problemi nascosti della borghesia no dietro la perfezione che cosa c'è sicuramente dall'altra proprio questa invadenza sulle donne sul corpo della donna sulla sulla gravidanza stessa questi due vicini che poi sono secondo me la tra le figure migliori no che che racconta levin e che devo dire polanski rende in maniera secondo me perfetta perché proprio c'è anche anche in loro c'è una componente di inquietudine che piano piano si scopre no un uno sguardo un po' diverso una collana un po' diversa delle cose che stonano no in una coppia di anziani normali che uno sia nel diciamo nel pianotto di casa no e devo dire che sono due personaggi costruiti in maniera meravigliosa anche un po segno di come una credenza un'idea che poi diventa ossessione possa anche trasformare i mostri delle persone che in realtà sono persone umane no perché in questo caso lo sono dei tramiti ma sono esseri umani a tutti gli effetti e anche il concetto no della setta che che ti cambia che cambia il tuo modo di vedere le cose che ti indottrina in effetti no sì sì assolutamente poi sai qui gli anni sessanta sono un periodo molto importante per le donne perché c'è proprio un cambio di paradigma nei diritti no delle delle donne quindi rosemary si trova anche un po' in bilico all'interno di questa di questo tipo di situazione c'è proprio un uno stravolgimento e questo secondo me non fa altro che rendere ancora più incisivo quello che appunto è proprio il tema sulla mancanza di controllo del proprio corpo della propria vita di essere utilizzata questo sicuramente poi ne parleremo come un incubatrice vivente molto interessante questo tema perché viene portato avanti recentemente da un film che è uscito qualche mese fa al cinema che è the first omen e io non sono riuscita non sono riuscita ancora a vederlo però sono curiosa di sapere cosa ne pensi ha dei temi molto interessanti il film si si vede che un po un po un bilico sull'opera prima e non tutto all'interno del film a livello tecnico mi ha fatto effettivamente impazzire però devo dire che gli input la base di partenza ecco utilizzata dal film invece è molto buona ti dà degli spunti di riflessione interessantissimi perché noi sostanzialmente vediamo ciò che è successo prima rispetto agli eventi poi del film classico omen il presagio di richard donner quindi esattamente chi ha dato la luce damien e come è avvenuto poi effettivamente questo concepimento quindi si tratta letteralmente di una manciata di mesi prima perché è una gravidanza molto più veloce la cosa veramente interessante è che in realtà questo culto religioso poi tra l'altro perché come ben sappiamo è la chiesa stessa a voler creare un anticristo per poter riportare nuovamente poter esercitare nuovamente un controllo sulle persone ovvero noi riportiamo l'anticristo un anticristo che però possiamo controllare quindi diamo la parvenza della minaccia del male da cui ti puoi salvare solo se ritorni nuovamente nel greggio del signore fondamentalmente no come spesso e volentieri le religioni esercitano ovviamente un certo tipo di controllo manipolatorio sopra sopra le persone ovviamente nei casi estremi senza fare di tutta l'erba un fascio e la cosa veramente interessante è che loro portano avanti tutta questa serie di esperimenti fino a quando non riescono ad avere un bambino un maschio maschio il maschio può essere l'anticristo quindi loro ingravidano no ingravidano una prima ragazza questa prima ragazza quindi partorisce una figlia e allora si fa crescere questa figlia per poter ingravidare nuovamente questa figlia che se però da origine nuovamente a un'altra figlia e allora dobbiamo aspettare che anche questa che quindi non può mai la progenie fra la povera malcapitata e il diavolo non può mai essere un'altra donna perché la donna non può essere anticristo al massimo può essere incubatrice dell'anticristo come la vergine maria come maria certo è quello è il l'esempio è il modello è quello della della vergine maria sempre è sempre stato così in effetti e che è un po diciamo nella versione malata l'esempio della donna che si può controllare poi di questo potremmo parlare ma non ne parliamo adesso teologicamente ci sarebbero un sacco di altri modi di vedere le cose come ci insegna che michela murgia ma non è non è questa la sede e tornando a rosemary's baby un'altra cosa che mi ha mi ha molto interessata e colpita l'hai già un po detto tu all'inizio è questa componente ironica ed è effettivamente una cosa che secondo me ci sta perché in effetti quello che poi vuole un po rendere questa storia è come il male possa entrare nella nostra quotidianità e possa diciamo toccare una delle delle funzioni diciamo dell'essere umano che è quella della riproduzione no quindi come il diavolo può andare nella tua quotidianità tant'è vero che può addirittura essere un compagno può essere un padre no qualcuno che può essere diciamo presente nella tua vita e e questa quotidianità poi si si rende anche nel nel modo un po appunto ironico grottesco in cui personaggi a volte si presentano ai nostri occhi come se fossero un po delle macchiette come se perché in fondo sono esseri umani cioè nel senso il male fatto per bene lo sa fare il diavolo no certo l'essere umano fa questa specie di cosa soprattutto se sono esseri umani intorno alla settantina sono un po ridicoli diciamolo no pur adorando il diavolo e nel film devo dire che questa cosa è molto evidente anche nei battibecchi che hanno fra di loro che ci sono comunque anche nel libro in questo credo che questo sia uno dei film più fedeli che abbia mai visto sì è un passo ad uno è un passo ad uno sì 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 sono d'accordo e queste persone anziane appunto che adorano il diavolo sono effettivamente delle persone anziane con i loro corpi anziani con i loro con i loro difetti che non sentirci bene allora oppure essere un po diciamo malfermi sulle gambe c'è tutta questa serie di cose che vengono fuori no di questi personaggi che oppure che spettecolano no l'esempio della del fatto che spettecolano in continuazione con queste tutte queste amiche della signora che si vedono a prendere il tè ma dentro cioè che sono adorano il diavolo però comunque fanno i pettegolezzi come signori del paese insomma no infatti i dialoghi sono estremamente divertenti e naturali sì sono realistici non è il dialogo artificioso che magari puoi anche aspettarti da un libro che analizza una tematica di questo tipo no no sono veramente molto molto quotidiani e facile cioè è altamente credibile e quasi probabilmente questo per amplificare anche il fatto che inizialmente lei non lo ritiene una minaccia non pensa che loro siano una minaccia invece no l'abito non fa il monaco letteralmente se così vogliamo dire si ritrova completamente soggiogata poi no da queste da queste persone e tu con lei perché questo lo dicevamo prima è la forza poi di questo libro no lo scoprire tutto insieme a lei e quindi illuderti insieme a lei restare anche delusa insieme a lei perché poi questo violento senso di delusione che rimane alla protagonista alla fine fondamentalmente insomma rosemary cosa voleva voleva un figlio no tutto quello che le voleva era una famiglia felice trovare il suo il suo equilibrio anche un marito di cui fidarsi diciamolo comunque la più grande dimensione di questa storia è il marito in tutti da tutti i punti di vista sia esterni che interni cioè sia quello che prova lei che quello che prova il lettore o la lettrice io in realtà infatti ho molto rosicato per aver visto per aver letto il libro dopo dopo aver visto il film come molte persone perché ovviamente la componente di sorpresa me la scrittura mi permette di coglierla ma in fondo non ci ho mai creduto fino fino in fondo no no beh ovvio perché un po' quella magia no sarà si è rotta quel patto lì era era rotto perché sai come va a finire sai dove vogliamo andare a parare va bene sì no no è vero è vero infatti se non avete semmai qualcuno di voi non avesse visto il film un po' vi invidio se siete riusciti a leggere il libro prima ecco magari fate questa cosa e appunto questo marito è veramente una una figura spreggevole diciamolo perché proprio è la il sentire il proprio interesse personale il mero interesse personale fregandosene totalmente ma proprio delle ripercussioni anche nella vita nella famiglia cioè è proprio una persona gretta e poco lungimirante che poi se ci pensi è un po' la storia infinita tra virgolette nel senso che quante volte quando vuoi trovare la via semplice il patto il diavolo per poter avere che poi non è troppo distante da un concetto molto più ellenistico no sul ricevere il favore degli dei sacrificando il primo figlio per esempio ma in realtà è un concetto anche abbastanza cristiano uccidendo il primo figlio offrendo il primo figlio a dio agli dei voglio dire ce ne abbiamo di esempi di bambini bambine soprattutto no sacrificate per la povera ifigenia perché la guerra sta andando male e quindi illudiamo che ifigenia si debba sposare con achille e in realtà l'abbiamo chiamata per poterla uccidere quindi questo è un concetto che ritorna costantemente anziché impegnarti su quelli che possono essere i tuoi obiettivi cosa faccio vado avanti lungo quella che la via più semplice e quindi il patto col diavolo adoriamo no la divinità affinché questa divinità possa effettivamente ricompensarmi come suo grande adepto come suo grande allievo che ho portato il suo verbo la sua parola ed è qualcosa di estremamente umano in realtà no che fa riflettere sulla vera malignità qua basterebbe leggere il paradiso perduto di Milton in questo caso anche la vedere l'avvocato del diavolo quando obiettivamente il diavolo stesso a dire ma scomodate tanto me e poi sono io quello che rimane sorpreso nel constatare quanto l'essere umano sia molto più malvagio non abbia bisogno di alcuna spinta per colpire atti malevoli e maligni ultima cosa che sottolineo e poi dopo introduciamo la nostra ospite è anche la figura di questo amico la ragione no il la scienza il colui che vorrebbe insomma far aprire gli occhi e che in alcuni in alcuni saggi ho trovato essere diciamo qualcuno lo vedeva come un alter ego dello scrittore che in effetti poi è l'unico che sapeva come andavano le cose no veramente questo succede insomma e questo loro amico scrittore in questo momento mi sfugge anche il nome pensa che vabbè comunque il loro amico scrittore che poi insomma anche lui subisce un po parecchio le ire no della della setta che non permette di aprire gli occhi però rappresenta proprio la ragione la voce della ragione colui che da subito vede del marcio dice scusa ma aspetta un attimo mai ragionato bene su questo mai visto bene come vanno queste cose ma hai notato dei dettagli ed è appunto quello che sembra veramente dire la cosa più logica però alla quale nessuno è arrivato in realtà quindi insomma anche lì è un elemento una persona diciamo importante nonostante compaia poco ma quel poco che compare ti mette la pulce nell'orecchio ecco sì credo che acce giusto dovrebbe essere acce sì 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 assolutamente la sai è l'aiutante magico in alcuni casi lo chiameremmo così l'aiutante magico che se vogliamo si potrebbe tranquillamente essere l'autore stesso che prova a salvare e a salvare anche solo a imboccare poi tra l'altro no la la protagonista in questo caso prova a farle aprire gli occhi non le dà la pappa pronto ovviamente lei che deve fare il salto per potersi davvero salvare però lui cerca di in qualche modo di metterla sul cammino giusto di farle aprire gli occhi poi insomma voraccio viene subito purtroppo scoperto e quindi tolto di mezzo ecco quindi però sì 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 assolutamente anche questo beh questo anche per darti un po un minimo di speranza non è che la umanità è in marcia ovviamente è difficile riuscire a trovare il buono è riuscire è difficile riuscire a trovare persone che non siano completamente egoiste persone che non non ti venderebbero non venderebbero il tuo utero al diavolo per per se stesse ecco insomma è difficile ma non è impossibile eh sì infatti ultima cosa ultima cosa prima di di introdurre l'ospite una cosa che secondo me è molto bella ed è resa benissimo nel film è l'atmosfera soffocante anche attraverso questa estate torrida la meraviglia di lei che si aggira in questa città calda come solo New York sa essere immagino io non ci sono mai stata però mi hanno detto che insomma quando il caldo è caldo a New York è molto caldo è davvero caldo esatto e lei si aggira eh perdendo liquidi eh e perdendo anche diciamo cioè in questo caso come spesso succede con le gravidanze demoniache ti risucchiano ma a volte succede anche con le gravidanze reali penso alle povere donne che hanno la iperimesi iperimesi gravidica quindi vomitano tutto il tempo tra l'altro quel farmaco che tu hai citato il talidomide serviva anche a ridurre le nausee esatto quindi insomma era era effettivamente un problema grosso quindi lei che si aggira io devo dire ho sofferto con lei sia nel libro che nel film nel momento in cui lei con questo caldo mostruoso con sta pancia che è più grande di lei si aggira per la città e non sa letteralmente dove sbattere la testa devo dire è un momento quasi commovente non so un po' sarà che mi sono un po' immedesimata forse un po' troppo però ecco ho avuto quella sensazione sì a livello di empatia molto molto forte e soprattutto fa anche perché la la camera da presa in quel contesto è estremamente opprimente quindi obiettivamente se proprio su di lei e poi soprattutto alterna questa cosa di passare dalla claustrofobia del dakota building quindi ovviamente no di questo palazzone enorme bellissimo di lusso all'interno del quale loro si trovano che comunque fa sentire rosemary isolata a questo isolamento però all'interno di uno spazio così ampio come appunto una new york torrida calda che al tempo stesso però appunto ti soffoca è talmente tanto grande dove tu ti senti davvero un piccolo ago all'interno di un pagliaio e proprio per questo motivo ti fa sentire comunque isolato quindi amplifica no questa sensazione claustrofobica detto questo perché qui noi insomma ci siamo dilungate perché il libro il film li abbiamo amati moltissimo ma è arrivato il momento come sempre in ogni episodio del nostro defense book club di dare spazio all'ospite e in questa occasione abbiamo chiamato una critica cinematografica studiosa soprattutto di horror e di mostruoso femminile nonché insegnante di cinema che è Ilaria Franciotti ciao Ilaria grazie mille di essere con noi davvero ciao Gabriella grazie a voi siamo siamo veramente super super contente anche perché insomma anch'io sapevo quanto tieni a rosemary's baby e quindi ci tenevamo ecco ad averti in nostra compagnia io vorrei partire proprio da questo da perché all'inizio di della puntata parlavamo con Flavia di quanto rosemary's baby tanto romanzo quanto film sia stato importante all'interno del panorama del cinema horror perché cambia completamente paradigma rispetto a tutto ciò che era stato prodotto effettivamente fino a quel momento ma soprattutto introduce quello che potremmo definire il pregnancy horror esatto assolutamente prima di rosemary's baby non so cosa ne pensate ma sì abbiamo avuto storie relative a bambini e bambine mostruose non abbiamo mai avuto storie su una maternità mostruosa su una gravidanza inquietante e invece da rosemary's baby appunto come dici anche tu è cambiato completamente paradigma il libro poi ricordiamolo è solo un anno antecedente al film ed espone benissimo proprio quei vincoli terrificanti che vengono imposti alle donne e che distruggono pian piano in maniera silenziosa ma quasi come se fosse uno stilicidio tutto il loro individualismo attraverso il sessismo è mostrato attraverso gli orrori della domesticità perché d'altronde questa è una cosa che in realtà il cinema ma la narrazione in generale ci ha sempre mostrato la moralità è una delle virtù più attesa dalle donne e specialmente dalle donne madri sì se ci pensiamo poi queste aspettative sono proprio quelle più pressanti su rosemary e le rendono infatti un bersaglio perfetto per quello che è il culto satanico e per i suoi piani per portare poi la progenie di satana nel mondo ossia la virtù e la moralità sono qualità molto comuni nei film dell'orrore e soprattutto in quel periodo cioè il fatto che il film di rosemary's baby sia del 68 non credo sia un caso basti pensare no anche alla final girl dello slasher rosemary in questo senso non fa eccezione perché si sobbarca di tutti i lavori domestici come pulire preparare i pasti stendere il bucato e attraverso queste faccende è facile individuare e riconoscere le pratiche sessiste e le conseguenze di queste pratiche cioè noi riguardiamoci appunto nel libro non so voi cosa ne pensate ma secondo me nel libro è ancora meno ambiguo rispetto al film il fatto che Guy il marito di rosemary venda letteralmente il benessere di suo figlio e di sua moglie per far avanzare la storia attoriale perché non so nel film rimane comunque questa ambiguità di fondo cioè sembra veramente un trattato sull'ambiguità al cinema invece nel libro sarà anche per questo finale molto più descrittivo molto anche ha molto più spazio il finale nel libro e anche proprio il modo in cui rosemary nell'ultima scena decide di accogliere la maternità è un po' meno incubico un po' più realistico non so se avete avuto la stessa... sì io credo che questo sia veramente un film un libro film vabbè entrambi molto molto specifico sulla maternità cioè molto descrittivo anche in maniera realistica perché a prescindere dal discorso che facevi anche tu sulla manipolazione del corpo della donna attraverso la maternità anche il modo in cui si racconta questa maternità questa gravidanza come una trasformazione fisica come qualcosa che ti risucchia le energie come qualcosa che tu senti da una parte molto vicina a te ma anche molto lontana da te sono tutte cose estremamente reali e anche estremamente inquietanti perché in fondo l'essere incinta lo dico per esperienza personale è una cosa inquietante cioè lo è proprio non è che a prescindere dal fatto che sia o meno il figlio del demonio è comunque una cosa inquietante è sempre quella sensazione un po' di alien quando vedo le pance muoversi lo è perché poi comunque il corpo diventa ancora di più un argomento di discussione del mondo cioè tu non sei più solo te sei te un'altra persona e tutto quello che le persone attorno a te pensano di te e di quell'altra persona e questo lo diceva anche Mary Shelley no? cioè quanto deve essere spaventoso dare alla vita una creatura eh sì sì assolutamente sai io mi ricollego a questa cosa proprio sull'uso del corpo l'uso del corpo della donna come se non fosse suo perché fondamentalmente Rosemary poi diventa unicamente utero utero la cui funzione è quello di creare poi questa progenie maligna con Flavia citavo infatti The First Omen perché The First Omen parla esattamente di questo quindi la donna che viene completamente manipolata da questo punto di vista ma soprattutto non è più padrona né di se stessa né tantomeno del suo corpo un corpo che viene usato in funzione della creazione di un maschio e secondo me poi questo argomento come dicevi tu giustamente il 68 è un anno delicatissimo importantissimo ma ora come ora con quello che sono i discorsi attuali tutta la politica deprovita che viene mandata avanti io credo che sia veramente illuminante ecco sì purtroppo è più attuale che mai tra l'altro una cosa che io trovo veramente inquietante è che nel libro è descritta perfettamente tra l'altro una cosa che non ho detto è che il libro è molto simile al film cioè il film è molto simile al libro c'è un adattamento davvero fedele al di là di alcune cose cioè Rosemary è incinta e man mano che la sua salute si deteriora appare proprio una rappresentazione sia fisica ed emotiva di quello che noi potremmo definire abietto proprio mostruoso femminile e ricollegandomi a quello che dicevate l'abietto è proprio un esempio del Heimlichan Heimlich cioè il familiare e non familiare perché è una parte di noi che cerchiamo di respingere però è sia me che non me infatti la salute di Rosemary dà inizio a queste immagini abiette nel libro il suo corpo inizia a cambiare e non viene nemmeno quasi più riconosciuta dalle amiche e dagli amici perché la pelle è pallida i dolori che prova sono anomali la trasformano e tutti questi sintomi vengono proprio drammatizzati per rivelare queste complicazioni anche identitarie della gravidanza e d'altronde anche il bambino di Rosemary è abietto perché mentre il bambino è dentro di lei e quindi biologicamente è un pezzo di lei e comunque non è Rosemary è un essere completamente diverso quindi tornando al discorso di familiare e non familiare è familiare perché riflette gli aspetti fisici della madre è suo figlio ma tuttavia è anche la progenie di Satana Satana cioè diciamolo a fuori di metafora patriarcato certo e a questo proposito c'è un'altra componente che è molto interessante che è ovviamente la comunità cioè quello che c'è attorno a questa donna che è appunto incubatrice che viene usata e della quale viene usato anche il desiderio di rimanere in C di essere madre perché viene diciamo pilotato perché lei voleva comunque essere è uno dei suoi desideri che viene appunto pilotato e poi c'è tutta una serie di cose che le succedono che riguardano la comunità cioè quanto la comunità si inserisca in questa gravidanza in particolare i suoi vicini e la setta o comunque ma non solo in realtà quando c'è per esempio la festa no c'è questa festa che loro organizzano che lei organizza per cercare un po' di riprendere in mano la sua vita e i suoi vecchi amici che anche questa è una cosa molto tipica delle donne incinte perché le donne incinte a un certo punto vengono lasciate da sole perché tu non sei più performativa come eri prima non puoi più andare magari poi cioè è più difficile uscire la sera a volte non puoi bere banalmente io sono madre però posso immaginare cioè c'è un pochino un'esclusione sociale quindi lei cerca un pochino anche di recuperare i suoi vecchi amici anche in quel caso comunque hanno tutti da dire su di lei su com'è su com'è diventata e da una parte è una preoccupazione però dall'altra è un mettere il becco ecco io ti volevo chiedere un pochino di parlare di questo aspetto di quanto questa comunità e anche la setta i suoi vicini diventano la gabbia vivente attorno a questa donna esatto perché in realtà i suoi amici e le sue amiche di sempre no anzi rappresentano quella sorta di boccata d'aria fresca per Rosemary il problema è che la tengono più lontana possibile da queste presenze perché sia i suoi vicini ma cosa ancora più inquietante suo marito la spiano e la controllano costantemente ma addirittura Saperstein il medico il ginecologo che la segue minimizza il dolore cronico piuttosto che prescrivere le medicine per il dolore la maltratta quando lei ammette di aver letto libri sulla gravidanza la mette addirittura in guardia nel parlare con le amiche cioè sembra proprio la classica violenza ginecologica che conosciamo purtroppo molto bene ovviamente scopriremo poi che anche il ginecologo stesso Saperstein fa parte di questa setta di questa congrega in effetti sono proprio i vicini che consigliano a Rosemary di rivolgersi a questo medico perché lei inizialmente era andata dal dottor Hill che però anche questo io trovo che questo libro sia quasi senza speranza cioè anche quando lei effettivamente si comincia a rendere conto che qualcosa forse non va e ritorna dal dottor Hill e anche di lui non si può affidare perché lui fidandosi della fama di Saperstein richiama immediatamente sia il ginecologo che il marito cioè insomma è proprio un patriarcato dilagante e sì anche perché lei non può decidere da sola in quanto donna lui la deve riaffidare alle sue figure maschili di riferimento esatto infatti io ho letto anche di Nira Levin The Step for Twice del 71 quindi comunque come anni siamo lì e in questo libro lui menziona Betty Friedan Gloria Steinman e parla proprio direttamente del crescente movimento delle donne però Rosemary's Baby la coscienza femminista è quasi assente perché nonostante tutte le dinamiche che sono in gioco delle quali abbiamo parlato il romanzo comunque è come terrificante perché la narrazione si riconosce che il destino di Rosemary è ingiusto ma non offre via d'uscita né narrativamente né anche teoricamente perché la vittoria del diavolo del patriarcato è totale e non perché sconfigge il femminismo ma perché ritrae un mondo in cui le possibilità femministe non sono proprio contemplate e questo io lo trovo veramente di una cupezza e di un nichilismo fortissimo perché anche alla fine alla fine sembra quasi che lei accetti la maternità ma chi è che è intorno dove sono le sue vere amiche dove sono persone che veramente la conoscono la appoggiano la comprendono è quasi come se lei fosse stata indotta ad accettare quel tipo di situazione oppure scusate non voglio monopolizzare vi ricordate anche sempre durante la festa con le amiche e gli amici quando loro dicono Rosemary ma non è normale che tu hai tutti questi dolori ma senti un altro medico senti un'altra opinione e lei subito così dal nulla ma io non voglio abortire se appunto sottolineasse il fatto che comunque la vita del figlio nonostante i dolori atroci nonostante la quotidianità terribile che lei sta vivendo sia comunque in primo piano così come quella del marito così come quella delle persone che ha intorno è una vittima è chiaramente una vittima lei poi si diciamo si arrende all'amore per suo figlio ma si arrende soprattutto al fatto di avere qualcuno attorno che la sostiene perché è una comunità malata è una setta ma è comunque qualcosa cioè qualcosa che la riconosce le riconosce anche un piccolo ruolo insomma il ruolo della madre dell'anticristo quindi neanche troppo piccolo e lei un po' forse alla fine è come se dicesse vabbè meglio di niente cioè meglio che stare da sola certo sì sì anche io chiaramente l'ho anche vista come è l'unico modo per stare con mio figlio infatti da una parte c'è l'amore sicuramente che va al di là di tutto in fondo quegli occhi non sono tanto male sono gialli però non è male è un po' la caratteristica va bene così ce lo facciamo andare bene insomma anche io l'ho trovato commovente quando dice quel mentino no quella che sì anche io l'ho percepito con un po' di commozione però in fondo è anche un po' grottesco e qui arriva un'altra domanda che riguarda proprio il tono grottesco in alcuni casi quasi umoristico io come credo che purtroppo sia capitato alla maggior parte delle persone ho visto prima il film e poi ho letto il libro purtroppo nel senso che il film ha sovrastato l'abbiamo detto anche all'inizio un po' il libro stesso per successo e ero curiosa di sapere prima di leggere se quel tipo di tono quasi veramente umoristico fosse reale cioè fosse originale fosse anche nella storia e in effetti un po' è così cioè ci sono questi personaggi che in alcune situazioni diventano quasi delle macchiette in particolare questi adoratori del diavolo anziani che te li immagini capito a farsi la giocata a carte e poi hanno l'altarino del demonio dietro una cosa che un po' fa in effetti sorridere che cosa ne pensi tu di questo uso un po' grottesco in questa disperazione in realtà di cui abbiamo parlato allora io intanto non so voi ma io l'ho anche riletto il libro proprio per la puntata e mentre lo leggevo pensavo proprio ai personaggi dei film di Polanski non so se avete avuto la stessa beh certo si 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 sono sovrapposti esatto è proprio inevitabile nonostante per esempio ecco parlando delle differenze no il personaggio di Minnie è completamente diverso rispetto a quello del film viene descritta anzi come una donna grassa infatti c'è c'è anche abbastanza body shaming nel libro delle parti veramente mi hanno parecchio infastita però no tornando invece al discorso del grottesco allora per quanto riguarda il film è proprio una cifra stilistica di Polanski in tutti i suoi film il grottesco un po' la fa da padrone però è stato interessante notare quanto invece anche nel libro ci sia cioè mi viene in mente la scena in cui forse per la prima volta non vorrei dire una cavolata Minnie citofona a Rosemary e Rosemary la vede attraverso lo spioncino e io mi ho immaginata proprio questo grandangolo questa donna proprio deformata c'è un sitcom avete sentito le sitcom americane esattamente c'è proprio un gusto grottesco anche nella descrizione dei personaggi delle situazioni anche quando alla fine c'è Guy nella stanza che si alza però poi subito si risiede cioè è quasi slapstick no? e quindi sì per quanto riguarda l'umorismo certo è un umorismo comunque molto nero e sempre legato al grottesco cioè non so voi ma non ci sono state delle parti che magari mi hanno fatto ridere leggendo il libro e sarà perché appunto è tutto talmente cupo talmente soffocante che è difficile poi abbandonarsi anche magari a delle risate però sicuramente sì c'è il modo in cui vengono descritti questi vicini ma anche il medico cioè io mi sono immaginata questo saprenstein con l'amuleto con la radice di tannis ecco quello sì quello mi ha fatto un po' ridere in effetti l'antiscientificità diciamo è un po' ridere però anche perché insomma vista con gli occhi ovviamente di tanti anni dopo ma vista anche con dicevamo anche all'inizio con Gabriella la gravidanza stessa è una cosa da una parte molto scientifica ma dall'altra sempre bersaglio di una serie di superstizioni e di luoghi comuni che a volte diventano più forti della scienza stessa anche solo le stupidaggini che ti dicono quando ah ma la pancia è tonda cioè tutte queste idiozie che non hanno io effettivamente quella cosa lì della radice che è ovviamente legata al culto del diavolo c'ha tutto un senso lì all'interno della storia io però l'ho vista come quando ti regalano la cosa lì degli angeli che ti metti cioè quella roba che suona voglio dire la logica se ci pensate non è tanto lontana no 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 perché comunque doveva rappresentare ovviamente agli occhi di rosemary un amuleto di protezione esatto 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 esattamente come questi sono ora non ricordo come si chiamano una roba degli angeli una cosa con gli angeli io pure ce l'ho avuto me l'hanno ovviamente regalata quando era incinta sì il richiamo degli angeli forse è una cosa simile un po' inquietante vedi che è inquietante anche questo ma io quindi direi che avvicinandoci anche un po' alla conclusione di questa chiacchiera alla fine tirando un po' le somme fra tutto quello che abbiamo detto possiamo effettivamente dire arrivare al punto che ancora una volta il nemico stesso dell'uomo non è altro che l'uomo stesso senza scomodare poi il maligno che alla fine della giostra non è altro che una metafora anzi più che una metafora è un po' come la stessa parola mostro che viene spesso e volentieri abusata dalla voce delle persone è più un modo una scusa per potersi scaricare dalle proprie responsabilità assolutamente ma infatti noi piano piano cioè noi noi donne o comunque persone queer ci stiamo riappropriando della terminologia mostruosa la terminologia dell'abietto ed è verissimo cioè infatti quello che dicevo anche prima no sì ok setta di satana però è ovvio che il vero villain cioè il vero nemico del film non è satana ma è proprio la società patriarcale cioè io vorrei anche terminare citando proprio al volo un piccolo estratto cioè non citando ovviamente alla lettera parlandone di un libro che io trovo meraviglioso di Jude said Alison Doyle ma noi qua siamo super fan perché appunto anche lì a un certo punto quando parla delle madri perché lei dice i ruoli in cui le donne sono incanalate nella società patriarcale sono proprio quelle di figlie mogli e madri che comunque non vanno mai bene cioè per carità a meno che non segui quella strada che il patriarcato ha indicato per te e lei dice proprio che il nemico primordiale del patriarcato è proprio la madre perché perché è colei che può generare la vita però questa vita è un potere che volevano gli uomini che doveva essere a tutti i costi controllato dagli uomini e infatti c'è una narrazione che lei cita io sicuramente sbaglierò il nome già lo so che racconta la madre Tiamat non so se si pronuncia così e che è proprio la genitrice secondo diverse culture del mondo stesso della vita stessa il problema è che c'erano i suoi figli gli dèi che non accettavano questo potere matriarcale e volevano costantemente spodestarla dal trono e quindi Tiamat cominciò a generare tutta una serie di creature mostruose che dovevano proteggerla fino a quando però il figlio maggiore ora non ricordo il nome interviene uccidendo sua madre e dalla lacerazione del ventre materno ebbe proprio origine il cielo e la terra e tutta la civilizzazione cioè quindi secondo tantissime culture la civiltà il mondo è proprio nato da l'uccisione di un grembo da parte di un uomo e io a livello simbolico archetipico la trovo potentissima come cosa e mi fa tanto pensare a Rosemary's Baby perché appunto attraverso quel parto quindi quella lacerazione arriva l'anno 1 di Satana però altro non è che la conferma di un potere patriarcale che purtroppo aveva già messo radici solide sì diciamo che l'unica l'importanza della madre sta nel suo potere sta nel fatto che l'uomo da solo l'uomo maschio da solo non è in grado di generare e quindi deve necessariamente prendere quel potere dalle donne e trovare un modo per far sì che le donne non si autodeterminino rispetto a quel potere non possano decidere se avere figli come averne quando averne con chi averne ed è un po' sì a parte che è secondo me uno dei grossi diciamo temi anche politici e poi non rientro nello specifico però insomma uno dei grossi temi ed è un tema uno delle enesime volte in cui Lorlor ha letto e legge con grande lucidità la realtà forse più degli altri generi sono super d'accordo è un film che vi consiglio Gabriella prima ha citato The First Omen una grandissima sorpresa però un film ancora più incredibile da questo punto di vista più potente è Immaculate eh io lo voglio vedere ancora sì no no il film dovrebbe arrivare effettivamente quest'estate però rispetto a quella che è stata l'uscita internazionale come purtroppo capita a noi italiani le cose belle arrivano sempre dopo soprattutto quando si tratta di horror sì ma io in realtà pensavo anche che non che non potesse arrivare un film del genere perché è veramente ma diciamo ringraziamo Sydney Sweeney probabilmente perché lei ha avuto un momento di grande popolarità anche qui e quindi forse riusciamo ce la capiamo con lei insomma è anche produttrice cioè un film al quale ha tenuto tantissimo e no sono sicura che vi piacerà da impazzire grazie mille grazie mille a Ilaria Franciotti per essere stata con noi per aver parlato con noi di questo libro meraviglioso dal quale è stato dato un film altrettanto meraviglioso Rosemary's Baby grazie grazie a voi è stato un piacere allora Flavia noi siamo arrivati alla conclusione di questo episodio tra l'altro dopo una piccola pausa che c'eravamo effettivamente prese e che segue un'altra piccola pausa effettivamente visto che adesso arrivano i mesi estivi uno dirà vabbè ma andate già in vacanza ma magari però effettivamente l'estate in realtà ogni volta porta poi altri impegni schedule dilatate perciò ci dispiaceva poi effettivamente lasciarvi in una maniera troppo altalenante pertanto il The Fanks Book Club ritornerà con il podcast direttamente dai primi poi di settembre e per restare aggiornati su quella che sarà la lettura che magari ci accompagnerà in questi mesi estivi vi ricordiamo che il The Fanks Book Club è anche un gruppo di lettura quindi potete unirvi al canale al gruppo Telegram dove conoscerete tante altre persone appassionate di horror e quant'altro e dove sicuramente insomma vi informeremo su quello che sarà la prossima lettura di questi mesi il link di Telegram ovviamente è nella descrizione di questo podcast ma potete trovarlo facilmente anche sui nostri profi di social quello di Gabriella Giliberti e quello di letture metropolitane e insieme a questo anche tutte le informazioni e non dimentichiamo le puntate precedenti del The Fanks che sono sempre disponibili su Spotify tutti i libri che abbiamo letto insieme tutte le ospite e gli ospiti che abbiamo avuto con i quali ne abbiamo parlato e ovviamente utilizzate se avete tempo e modo l'estate per leggere un sacco di horror compreso quello che arriverà suggerito dal nostro gruppo di lettura esatto e noi intanto vi auguriamo una buona lettura e ci vediamo al prossimo libro ciao ciao